buongiorno carlo anzi buon pomeriggio buon pomeriggio buon pomeriggio io sono al nord tu sai tu sei invece nelle mie amate terre del sud in una regione molto bella l'abbiamo già detto ma io ci tengo a ripeterlo allora che cosa succede da quelle parti dacci qualche buona notizia o hai una domanda di riserva si dopo però prima fai questo e poi ti faccio l'altra di riserva dai dai la lucania e purtroppo anch'essa vittima di questo di questa situazione particolare più che distopica oserei dire che stiamo vivendo in generale noi noi italiani tutti no e i problemini sono tanti purtroppo queste misure alcuni le definirebbero liberticide io preferisco definirle insensate oltre che liberticide ma prima di tutto insensate stanno fortemente minando la vita di tutti noi l'economia anche lavorativamente parlando si devono fare tanti sforzi per riuscire a raggiungere quel fatturato utile a poter sopravvivere perché ormai di di ben vivere non ne parliamo più da tanti anni no ricordiamo la famosa massima di prodi quando decisero di entrare nell'euro no lavoreremo un giorno e guadagneremo come se lavorassimo un giorno in più certo ma lui parlava di loro non degli italiani quindi allora probabilmente sono sono poco intelligente non avevo capito io invece su questa su questa realtà un'altra un'altra chiave di lettura penso che sia riassuntiva è una mia idea c'è anche riflettuto e credo che sia molto molto giusta almeno secondo me è la realtà in cui noi viviamo per per usare poi uno simbolo perché viviamo una realtà che è una finzione tutto è finzione noi viviamo in un in un in un contesto totale di totale finzione abbiamo perso il contatto con la realtà vera di conseguenza e la conseguenza più logica è l'irrazionalità quindi una finzione che porta l'irrazionalità e con l'irrazionalità la chiave di lettura diventa difficile diventa difficile anzi anche per usare un termine che a me non piace ma che va tanto di moda diventa difficile anche confrontarsi perché quando tu come base di ragionamento non hai la realtà ma una finzione a questo punto di che cosa parliamo come facciamo a trovare un filo logico se non partiamo dalla realtà vera quindi la differenza tra chi pensa di aver capito ha capito qualcosa di quello che sta accadendo gli altri che uno parla della realtà l'altro ti parla della finzione quindi ecco perché non possiamo essere d'accordo perché parliamo di due mondi completamente diversi quindi per chi ha capito c'è ancora l'uso del buon senso l'uso della razionalità per gli altri no no e quindi come dire come se io costruissi sulle sabbie mobili se se mi riferisco a questo mondo di finzione io non sono in grado di leggerlo realmente non sono in grado di costruirci un ragionamento un discorso mi arrampico continuamente cambio continuamente le basi del mio cosiddetto ragionamento non so se è chiaro però questa è la mia chiave di lettura della situazione è evidente quello che tu dici solo un piccolo non un appunto ma una riflessione e la razionalità è alla base certo quindi non è la persona che ha capito e quindi è razionale no 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 è la razionalità che ti permette di capire esattamente così ho capito quello che intendevi dire no per precisione è un è la persona che con occhi semplici ci auguriamo anche con una fede professata e tenuta nel cuore e nella mente riesce quindi in maniera razionale a studiare quelli che sono i fenomeni della contemporaneità certo purtroppo la situazione è molto grave perché l'uomo contemporaneo soprattutto l'uomo facente parte di quelle nazioni cosiddette occidentali ha una tale ignoranza no più che altro una tale repulsione verso quelli che sono quantomeno i dettami della legge di natura che quindi per conseguenza non è in grado di discernere con mente lucida e con animo semplice quindi libero da passioni sregolate quella che è la storia e la cronaca della nostra vita è purtroppo mortifica questa considerazione e io mi auguro di non precipitare mai in questo baratro così scandaloso e così controproducente e per l'anima e per il corpo anche perché tanti 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 anni fa comunque sia o sguazzato nella negli ambienti della mentalità mondana e ti garantisco che a lungo andare si perde la cognizione di ciò che è vero e di ciò che è farso e e quindi poi dopo si diventa vittime di quelli che gli apostoli no definivano i venti di dottrina i flutti delle onde del mare si viene trasportati qua e là e sballottolati tanto per continuare a usare una un volgo scritturale si viene sballottolati quella appunto dai flutti del mare tempestoso dai venti di dottrina e quindi ti può andar bene devi essere fortunato che riesci ad azzeccare qualcosa diversamente non puoi far altro che precipitare in un abisso sempre più profondo il popolo contemporaneo i nostri connazionali dispiace doverlo dire purtroppo sono stati prima siamo stati tutti noi o quantomeno ci hanno provato a corromperci con le comodità con gli agi con la vita da terzo settore per intenderci poi pian piano ci hanno ipnotizzato con le televisioni di massa si è smesso di leggere la buona stampa e quei pochi che si pregiano di essere dei grandi lettori in realtà non hanno materiale buono da leggere perché in commercio si trova solo della spazzatura perdonami il giudizio così severo no no io sarei ancora più severo e quindi alla fine quando si è ipnotizzati da questi falsi maestri della tv quando si quei pochi che leggono leggono dei veleni inoculano nelle loro menti dei veleni e quando poi cosa ancora più grave la sede di pietro rimane formalmente vacante per decenni e allora è normale che il greggio si disperde no si ecco precisiamo formalmente non materialmente perché però sennò siamo accusati di chissà quali nefandezze teoriche non stanno né in cielo né in terra perché poi certe tesi sono state condannate da persone che non l'hanno letta e se l'hanno letta non l'hanno nemmeno capita scusa io ci vado dritto ma è questo il mio è il mio modo può piacere o no ma non intendo nemmeno cambiarlo volevo volevo anche dire ma visto che ci siamo la domanda di riserva probabilmente ancora più difficile della prima domanda prima di passare a questo discorso molto interessante sulla buona stampa sulle buone letture sul nutrire anche mente e spirito di buone letture ti volevo fare una domanda un'altra domanda carlo dal tuo punto di vista com'è attualmente il panorama cattolico italiano rimaniamo in italia per cortesia non andiamo oltre perché se no perché mi pare che qualche paese dell'est stia dimostrando più 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 legame a determinate chiamiamo le tradizioni che non noi che dovremmo invece difenderle a spada tratta come vedi il panorama cattolico italiano allora ti ringrazio per la domanda anche perché questa domanda suppone che tu pensi che io possa essere un buon cristiano e quindi grazie per la stima e come lo vedo partiamo dal presupposto che la mia valutazione è una valutazione o vuole essere una valutazione che segue criteri oggettivi e visibili quindi non una valutazione che può riguardare l'aspetto privato personale no c'è anime delle persone perché che un credente possa essere peccatore o non peccatore nella sua sfera privata quello lo sa dio noi possiamo fare le nostre valutazioni sulla base di ciò che vediamo certo quindi coinvolgendo i nostri sensi ciò che io sento ciò che io vedo certo 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 mi riferiva a questo in particolare sì sì ma d'altro canto poi nella chiesa noi distinguiamo un corpo e un'anima c'è una realtà materiale e una realtà soprannaturale distinguiamo quindi un corpo mistico e una un collettivo umano visibile la situazione non è buona ma non è buona solo da oggi purtroppo vedi in questi giorni stavo pubblicando su su sum corda il settimanale che indegnamente dirigo piccolino otto pagine esce quando c'è tempo prova a farlo a pubblicarlo tutte le settimane stavo studiando un piccolo libricino eccolo qui fuori della chiesa non c'è salvezza si sono tutta una serie di opuscoli che negli anni 30 40 erano presenti in tutte le case nella fattispecie questi sono gli opuscoli sos sos che pubblicavano i gesuiti e quando si parla di gesuiti c'è già subito chi addrizza i capelli anche lì bisognerebbe fare tante precisazioni fuori della chiesa non c'è salvezza stavo studiando appunto questo e ti imbatti in tutta una serie di valutazione che devi fare chi è cattolico chi non è cattolico che significa essere cattolici tornando alla tua domanda una riflessione sul panorama cattolico italiano tanta buona volontà secondo il mio punto di vista ma tanti errori tanti errori perché non c'è una rigorosa formazione dottrinale ma d'altro canto come può esserci se ormai chi dovrebbe farla chi era deputato a farla o ha buttato la spugna o sta ingannando non voglio entrare nel merito se lo sta facendo con coscienza o in maniera incosciente tuttavia se non abbiamo una buona formazione ecco che si diffondono tutta una serie di errori il panorama cattolico nazionale presenta dei capisaldi quantomeno dei punti di riferimento a livello umano noi possiamo distinguere per essere brevi i bergogliani ovvero coloro i quali pendono dalle labbra di bergoglio quando a loro fa comodo i razzingeriani coloro i quali rimangono ancorati ad una figura benché al pari non ortodossa al pari di bergoglio ma quantomeno esteriormente più tradizionale poi abbiamo i cosiddetti lefebriani che rimangono ancorati al pensiero del loro fondatore monsignor marselle febbre non disdegnando però non disdegnando comunque dei compromessi anche recenti ma sì sì ma un po di situazioni un po di adesso no no elia è sottointeso cioè il pensiero di monsignor marselle febbre era un pensiero pragmatico lui era un politico non era affatto un teologo e quindi ovviamente la sua è stata una amministrazione della sua opera partitica così più o meno come oggigiorno si si gestiscono i partiti politici quindi venendo meno tante volte a quelli che sono i valori fondanti nella fattispecie della fede cattolica e scendendo poi a compromessi di tipo pragmatico giudizio severo ma voglio dire i fatti sono quelli poi abbiamo comunque tutto un altro mondo della tradizione legato a vari personaggi ci sono personaggi di buona cultura come per esempio può essere il professor roberto de mattei che rappresenta tutta quella sfera vicina alla tfp brasiliana tradizione famiglie e proprietà esatto ci sono tutti quei personaggi ex alleanza cattolica che prima era molto più impattante molto più numerosa tuttavia adesso non voglio dire loro sono in errore noi siamo siamo nel giusto siamo sempre lì ci sono dei cedimenti ci sono dei cedimenti chi è più lassista verso determinati dogmi chi diciamo recede dal professare integralmente la fede riguardante altri determinati dogmi ma come ci insegna papa leone tredicesimo nella satis conitum purtroppo o si o meglio purtroppo o si professa integralmente la fede o diversamente si professa l'idea che sia in se stessi quindi se stessi e allora a questo punto abbiamo tutte queste queste figure al cui interno si diramano mille rivoli e ognuno dice la sua e quindi abbiamo il moltiplicarsi di canali internet il moltiplicarsi di siti il moltiplicarsi di bollettini e le persone sono sono molto confuse oggi manca scusa carlo manca una tipologia di cattolico quello che si fa al alle esternazioni al pensiero di monsignor vigano che sono tra i più mi pare quelli più più visivi più attivi in questo momento con particolari iniziative e con altre si che sono sono molto molto attivi si rifanno o dicono di rifarsi al pensiero di monsignor vigano fanno anche loro un discorso molto politico molto politico chiamano all'appello con sottoscrizioni anche con donazioni punti programmatici e roba di questo tipo ecco diciamo due cose anche su questa tipologia di cattolico si per per dovrete di completezza diciamo non per altro sì sì allora posto che categorizzare diciamo a livello giornalistico in questo in questo caso non vuol dire scagliare una pietra o essere dei lapidatori per l'amor di dio si cerca più o meno di 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 illustrare le varie di fare una fotografia di della realtà cattolica le varie aree allora il monsignor vigano è stata una sorpresa è stata una sorpresa negli ultimi anni anche positiva per certi versi perché quando qualcuno poi soprattutto una persona una personalità importante come monsignor vigano esce dal letargo è sempre una cosa positiva ora dove fosse monsignor vigano quando i potentati che lui adesso eh biasima eh entravano a gamba tesa nella chiesa e dall'interno 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 eh di diramavano tutta una serie di veleni che hanno di fatto quasi totalmente cancellato la professione di fede cattolica quindi quella integrale dove fosse monsignor vigano io non lo so tuttavia eh con qualche decennio di ritardo fa piacere che anche lui eh abbia cominciato a riflettere su quella che è la la verità di fede cattolica no sai monsignor vigano comunque sia era eh totalmente legato al pensiero boitiliano poi anche razzingeriano soprattutto al pensiero ecumenico che distrugge l'ecclesiologia eh e e che 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 manda in cantina in maniera scandalosa tutta una serie di dogmi l'ecumenismo è il contrario della professione di fede cattolica no e dove fosse in quei periodi eh lui era lì con loro a diramare questo pensiero distruttivo ma d'altro canto perché le persone sono così indifese oggigiorno davanti a ciò che viene imposto perché hanno perso la fede perché hanno creduto a dei falsi maestri e nonostante dio cerchi con presso i cuori di tutti noi di dispensare quelle grazie utili a farci salvare e diventa difficile quando questa ignoranza incancrenisce così tanto le menti ora il il gruppo di di fuoco che eh è vicino a Viganò è molto rumoroso eh distribuisce anche delle buone informazioni tuttavia appunto come tu dicevi ha una struttura prettamente politica ora è vero che da che mondo è mondo ma ce lo dice anche la legge naturale l'uomo ha bisogno di qualcuno che comandi no secondo san tommaso d'aquino nel de regimine principum la forma di governo migliore è l'aristocrazia elettiva se non ricordo male nell'epoca contemporanea purtroppo con questi principi eretici falsi di sovranità popolare di laicità ecco che si pensa sbagliando che eh il bene la restaurazione possa venire dal basso vabbè ci sarebbe tanto da obiettare comunque sia il lavoro che sta facendo ma la giornalità popolare è un soffertimento dell'ordine ma del vino e anche naturale è dell'ordine naturale delle cose ma d'altro canto si è visto con esempio più lampante in assoluto è il movimento 5 stelle il movimento 5 stelle di cui anche io fui vittima quando non avevo adeguatamente studiato la teologia politica soprattutto devo dire io no mai incantato anzi dal dal 2013 ho sempre informato sul pericolo di una ideologia di quel tipo e lo dico con grande orgoglio nel senso sono sono contento di aver fatto questo lavoro di informazione peccato che arrivò a poca gente ricordo molto bene io tutt'è che non è la prima volta che faccio ammenda di questa mia grave colpa e lì l'esempio del movimento 5 stelle ha dimostrato quanto possa essere falso il principio di sovranità popolare mentre perché secondo il dottore angelico l'aristocrazia elettiva è la forma di governo migliore e beh perché all'epoca quantomeno prima dell'avvento dell'epopea borghese gli aristocratici o quantomeno alcuni aristocratici venivano cresciuti all'arte della politica all'arte della politica secondo i dettami nei migliori nei migliori dei casi di santa romana chiesa quindi seguendo tutta una serie di principi e tutta una struttura di azione che se adeguatamente praticata rasentava l'infallibilità una forma di infallibilità indiretta poiché si eredita un pensiero infallibile lo si mette in pratica diciamo quasi alla perfezione e quindi non può esserci altro che un'infallibilità ricevuta indirettamente. Tornando al discorso di Monsignor Viganò che dire purtroppo lui non arriva mai al punto come tanti guru del settore mi spiace chiamare guru è senza offesa come tanti leader ecco opinion leader del settore il problema dove risiede per il cattolicesimo il problema risiede nel fatto che da ormai almeno dal 1965 la sede di Pietro è formalmente vacante oggettivamente formalmente vacante ma è occupata da signori che vestono l'abito del papa utilizzano quelli che sono i privilegi del papato ma non vogliono il bene della chiesa non vogliono la divulgazione della vera fede vanno contro i dettami di quelli che i dettami di nostro signore Gesù Cristo e quindi diffondono tutta una serie di errori e deresie partendo addirittura dalla distruzione della santa messa per esempio noi ricordiamo la figura di Gesù Cristo re Cristo maestro Cristo sacerdote il re governa il maestro insegna il sacerdote santifica il papa è il vicario di Cristo unito a Cristo unito a Cristo il vero capo della chiesa è Cristo ma Cristo essendo attualmente non visibile ai più ha delegato divinamente un suo vicario in terra nel momento in cui questi soggetti che sono stati eletti a vicario di Cristo in terra o meglio diciamo a papa non vogliono essere veramente uniti a Cristo non vogliono essere veri vicari di Cristo non c'è la famosa intenzione no? E beh è oggettiva l'intenzione no? Certo. Noi sappiamo dalla teologia morale e non solo che anche da quella sacramentale no? che l'intenzione no? Accendo un attimo la luce scusa Carlo perché sì sì prego ti attendo non si vede quasi più e allora perché qua a nord fa buio circa un'ora prima che al sud quindi da te si vede ancora qua. Prego vai. E beh noi desumiamo l'intenzione da ciò che la persona fa e beh nel momento in cui una persona distrugge la santa messa nel momento in cui divulghi l'ecumenismo nel momento in cui divulghi addirittura in documenti di preteso magistero il liberalismo e nel momento in cui vabbè non parliamo adesso di Bergoglio che come ebbe a dire precedentemente lì non è neanche dottrina non è niente. Ma anche Ratzinger sdoganò il liberalismo no? Sì 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 con vesti più eleganti no? Come diceva come diceva Papa Pio XII se non sbaglio nella nell'Umani Generis uno dei suoi ultimi documenti in cui condannò tutto il male del mondo contemporaneo anche di quello avvenire lui disse poco importa se determinate espressioni o asserzioni le fanno in maniera grossolana o con eleganza di stile il pontefice dice esse non mancano di falsità e beh e allora a questo punto noi ci ritroviamo nella situazione che stiamo vivendo poveri noi. Quindi su questo tema è così fondamentale così importante Monsignor Rigano è molto ambiguo. Non è ambiguo? No. No è chiaro va bene. Non è ambiguo anche questa cosa scusami tu sei pignolo a modo tuo io sono pignolo a modo mio. No no ma ambiguo ambigo intendo per chi non è molto addentro determinati argomenti perché pare che condanni Bergoglio lo condanna anzi ma lo riconosce come Papa a tutti gli effetti. E allora questo dico è ambiguo c'è una contraddizione capisci? E' semplicemente in errore cioè Lutero condannava il Papa diceva Leone X e Papa sta sbagliando le sue condanne sono sbagliate lui è anticristo è Lutero è pensiero luterano ma comunque sia fa piacere quando qualcuno cerca di organizzare un qualcosa per il bene della collettività. Parliamoci chiaramente certo sarebbe preferibile avere delle guide dei maestri di dottrina integrale quindi di dottrina cattolica al giorno d'oggi sono poche noi grazie a Dio seguendo gli insegnamenti dell'istituto Mater Boni Consigli piuttosto i consigli dei sacerdoti dell'istituto Mater Boni Consigli veniamo sempre allertati quindi attenzione attenzione perché perché questa cosa dicono questo ma in realtà è così attenzione perché a tale azione può corrispondere tale reazione e così via. Ma le persone mediamente o stanno davanti la televisione oppure i più i meno stupidi i più curiosi talvolta vanno a vedere su internet ora poi questa curiosità va va anche incanalata bene e la curiosità ha portato tante persone all'inferno lo impariamo dai testi classici. Ecco allora torniamo torniamo al discorso Carlo delle buone letture a cui tu accennavi prima che le ritieni come le ritengo anch'io fondamentali. Allora con che cosa si può nutrire la mente e anche lo spirito cioè quali quali sono le buone letture dove dove si trovano quali sono le fonti da chi si può prendere perché giustamente come facevi notare oggi c'è un grande problema perché la buona stampa è limitatissima. Devi cercarla veramente con l'anternino so che tu sei un piccolo editore ma in qualità di piccolo editore insomma hai del dei grandi meriti e mi pare che stai pubblicando un altro un altro numero della tua rivista. Ecco ce ne vuoi parlare di questo? Ah sì allora adesso il numero 200 sono al numero 243 di Sursum Cord che l'ho finito oggi poco prima di parlare con te telefonicamente stavo appunto correggendo le bozze impaginando perché poi alla fine essendo come dici tu un piccolo editore faccio tutto improprio. Quindi sono devo anche impaginare sistemare fare tutto vorrei poter avere qualche collaboratore però è un po' difficile al giorno d'oggi e di cosa parla quest'ultimo numero? Questo ultimo numero parla di un dogma cattolico un dogma cattolico di cui accennavo prima facendo vedere quel libricino della collana SOS extra ecclesiam nulla salus. Ovvero fuori della chiesa non c'è salvezza. Ho iniziato a parlare dell'argomento e non è la prima volta che lo si fa in Sursum Cord, ovviamente perché questo dogma è alla base, è uno dei dogmi principali anche se non mi piace usare questo aggettivo come se fosse che gli altri non sono principali. Però va bene, ne ho parlato tante volte su Sursum Cord, ma nello specifico utilizzando questo puscoletto nel numero 242 si è pubblicata la prima parte e nel numero 243 di oggi, del 13 febbraio 2022, si è pubblicata la seconda parte. Che cosa dice l'autore? L'autore è gesuita e su questo bisognerebbe aprire una parentesi perché tante persone quando sentono parlare dei gesuiti subito collegano vergoglio, massoneria, distruzione della società, segreti, cospirazioni per cortesia. Noi abbiamo avuto dei grandi bravi gesuiti, dei grandi bravi domenicani, dei grandi bravi francescani, dei grandi bravi benedettini, in ogni ordine ci sono delle persone qualificate di animo buono, e purtroppo capita che c'è qualche soggetto non tanto qualificato, non tanto utile alla divulgazione della fede, per edulcolare un attimo il giudizio. Certo che l'ordine in sé ebbe dei problemi, ma sono dei problemi che non riguardano affatto le dicerie e questo pensiero complottista che ormai è dietro l'angolo, in ogni discussione, anche a proposito delle questioni Covid e la società contemporanea. Va bene. Questo gesuita parte da una riflessione, dice ma come mai tutti i protestanti, gli infedeli ed altri contestatori, parla ovviamente degli irreligiosi, degli areligiosi, quindi degli indifferentisti, no? Più o meno coloro i quali con altri termini diventavano tali in quanto vittime dell'ecumenismo, un ecumenismo non tanto professato quanto praticato che poggia sul principio dell'indifferentismo religioso. diceva Costoro accusano la Chiesa di essere cattiva, perché la proclamazione del dogma extra ecclesiam nulla salus, ovvero al di fuori della Chiesa non c'è salvezza, è cattivo, perché fa capire che la Chiesa esclude dalla salvezza tutti coloro i quali non fanno parte della Chiesa. Quindi la Chiesa condanna il 90% dell'umanità e allora è cattiva. Ovviamente l'autore, come fanno questi autori negli opuscoli SOS, che sono veramente tanti, io come sempre ebbi la fortuna, la provvidenza di trovare un collezionista che mi ha venduto una pila così, ne ho di argomenti da pubblicare sul sumo corda almeno per una decina d'anni, e quindi stavo dicendo che la Chiesa è cattiva. E allora l'autore cita tutta una serie di contestatori, che dicono che la Chiesa è cattiva, perché esclude dalla salvezza. Eh, ragioniamo, ragioniamo su questo argomento. Che cosa vuol dire extra ecclesiam nulla salus? Al di fuori della Chiesa non c'è salvezza. Vuol dire realmente che la Chiesa esclude dalla salvezza, quindi dal purgatorio e dal paradiso, coloro i quali non ne fanno parte? Che significa far parte della Chiesa? Ed è possibile che Dio voglia la dannazione eterna di tante anime che lui ha creato e che talvolta non per loro colpa non si trovano all'interno della Chiesa Cattolica. E quindi si distingue. L'autore giustamente inizia col distinguere i due aspetti della Chiesa. Alcuni teologi chiamano, distinguono corpo ed anima. Altri teologi distinguono collettivo umano e corpo mistico. Quindi ciò che è visibile della Chiesa da ciò che è invisibile. E già qui comincia la prima distinzione importante. Distinzione importante di cui Sant'Agostino ha tanto parlato. Sulla scorta di Sant'Agostino, Sant'Ommaso d'Aquino ha tanto meglio precisato. Chi è membro della Chiesa? Il membro della Chiesa è il battezzato che professa la fede cattolica, la dottrina di Gesù. Ma se questo membro della Chiesa pecca mortalmente, quindi recide la grazia, si stacca dalla grazia che possedeva, ottenuta dal battesimo, poniamo il primo peccato di quest'individuo, che è stato incardinato nella Chiesa mediante il battesimo, è stato, poniamo l'esempio, che è stato formato alla dottrina cattolica, cosa che al giorno d'oggi diventa veramente una rarità, durante tutta la sua infanzia non può perdere la grazia che ha ricevuto dal battesi. Ma perché non può perderla? Perché non è in età di ragione. Quindi non può commettere peccato mortale, perché alla base del peccato mortale sogliono esserci tre elementi, la piena avvertenza, il deliberato consenso e la materia grave. Questa persona, questo bambino, entra in età di ragione. In età di ragione, purtroppo, disgraziatamente, commette un peccato mortale. Perde dunque la grazia sacramentale che gli è stata conferita con il battesimo. Ebbene, questa persona è ancora membro della Chiesa? Sì o no? E allora questo è uno dei primi esempi di cui l'autore snocciola e sviscera tutto quello che è il discorso coerentemente razionale, quindi tutto ciò che il dogma cattolico ci insegna. Allora questo individuo ha semplicemente, semplicemente, disgraziatamente perduto la grazia, ma usando una descrizione fattaci da Sant'Agostino, non è ancora un ramo reciso della pianta, ma è un ramo secco. Tuttavia, questo ramo secco, essendo ancora connesso all'albero, che è la pianta, che è la Chiesa, può ritornare ad ottenere la linfa, a rinvigorire, a rinverdire, mediante tutti quegli strumenti che Dio mette a disposizione e che la Chiesa dispensa a tal fine. Quindi, in questo caso, la persona è sì membro della Chiesa collettivo umano, in quanto battezzato, è sì membro del corpo mistico, in quanto battezzato e professante la fede di Gesù Cristo. E allora, extra ecclesiam nulla salus. L'autore cita tutta una serie di esempi. prendiamo l'esempio di un eretico. Beh, che cosa vuol dire essere eretico? Essere eretico è molto diverso dal professare eresia, perché una persona può professare eresia inconsapevolmente. Poniamo il caso dello stesso bambino che nasce presso i protestanti, una setta qualsiasi protestante, riceve il battesimo e qui ci sarebbe una piccola precisazione da fare, perché la Chiesa ha definito che gli eretici battezzati non possono essere ribattezzati quando si suppone che il battesimo sia stato amministrato secondo le intenzioni della Chiesa. Mi si potrà obiettare che significa amministrare il battesimo secondo le intenzioni della Chiesa? Perché un protestante che odia la Chiesa, un pastore protestante, dovrebbe amministrare il battesimo secondo le intenzioni della Chiesa? Semplicemente perché è un'intenzione virtuale. Questo ci insegna la teologia, ma ce lo insegna anche la retta ragione. Chi è che dice che bisogna battezzare con l'acqua e nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo? La Chiesa. Cosa giova al battezzando? Chi ce lo insegna al battezzato? La Chiesa. Quindi virtualmente questo battesimo, se è stato amministrato appunto secondo le intenzioni della Chiesa, rende il soggetto membro del corpo mistico. Membro del corpo mistico anche se appartiene ad un collettivo umano sbagliato nella fattispecie la setta eretica di turno, la quale, a differenza di quello che sostiene l'ecumenismo, è una via certa di dannazione. Semplice, no? Il bambino che viene battezzato correttamente all'interno di una setta eretica, per effetto del battesimo, che viene amministrato secondo le intenzioni della Chiesa, almeno virtualmente, quindi utilizzando quella forma e quella specifica materia, diventa membro del corpo mistico, quindi di ciò che è invisibile, l'anima della Chiesa, secondo alcuni teologi, ma non fa parte del collettivo umano, del corpo della Chiesa, perché? Perché è integrato in un altro tipo di società, nella fattispecie la setta eretica di riferimento. Questa persona, in età di innocenza, se dovesse morire, non avendo potuto peccare, in quanto incapace di usare la ragione, senza alcun problema, andrebbe in paradiso. Ma se in età di ragione dovesse peccare, beh, allora anche in questo caso, ci sarebbero grossi guai. Perché? Perché verrebbe meno questo legame che, quantomeno soprannaturalmente, per via del battesimo, lo univa a Cristo. Ma, l'autore fa rilevare, questo individuo cresce, diventa grande, ignorante invincibilmente in materia, ovvero significa che non adeguatamente ha potuto conoscere la bellezza della Chiesa, la dottrina di Cristo, per tutta una serie di ragioni, e qui Papa Pio IX ne parla in tante occasioni, soprattutto in due documenti, per via delle circostanze, delle contingenze, per via dei luoghi, della cultura, ma anche della semplicemente della propensione individuale, di ciò che Dio, mediante la natura, gli ha donato quanto a intelletto, potrebbe rimanere ignorante in materia, quindi invincibilmente ignorante, che significa che ignora non per sua colpa, beh, questa persona dovrà arrivare prima o poi al giudizio di Dio, e allora andrà all'inferno, andrà in paradiso, come si concilia il giudizio della sua anima con il dogma extra ecclesiam nulla salus? Noi sappiamo che è incardinato in una società protestante, fa parte di una setta, ma sappiamo anche che ha ricevuto il battesimo. Beh, la dottrina ci dice, ma ce lo dice anche semplicemente la retta ragione, perché Dio non fa leggi impossibili da seguire, ad impossibilia, nemo tenetur, se non ricordo male, il soggetto ha la possibilità di salvarsi rendendosi conto di ciò che la legge naturale gli chiede attraverso i dettami della sua onesta coscienza, questo individuo può pentirsi, può manifestare un atto di profonda contrizione, può recuperare la carità perduta e Dio, che è misericordioso, lo riconquista a una vita di grazia. L'ho dovuta sintetizzare. Ma facciamo ancora un altro esempio, un altro esempio ancora più particolare, quando si comincia ad avvertire questa necessità, quando i missionari si rendono conto che andando nelle località più remote del pianeta Terra, avevano a che fare non con degli eretici, non con degli scismatici, non con degli infedeli, ma con dei soggetti che avevano delle, professavano delle religioni tribali, delle religioni ignote, non avevano mai sentito parlare di Gesù Cristo, non sapevano neanche cosa fosse la Chiesa. E allora questi individui, come si concilia la salvezza potenziale per questi individui, non hanno ricevuto il battesimo, in quanto non hanno mai conosciuto la Chiesa, né tantomeno una setta protestante, o un gruppo scismatico, dove comunque si amministra o si conserva ancora il battesimo secondo le intenzioni della Chiesa. non hanno mai ricevuto istruzione religiosa. Beh, è molto semplice, il pontefice dice che in questo caso l'uomo con il solo lume della ragione, grazie alla redenzione che ha ottenuto con lo spargimento del sangue di nostro Gesù Cristo e ricevendo le opportune grazie da nostro Signore, è in grado di comprendere che esiste un Dio e che bisogna osservare le sue leggi. L'aborigeno, per esempio, che osserva la legge naturale, che agisce secondo la propria onesta coscienza, ha la possibilità di salvarsi. Ha la possibilità di salvarsi perché ha fatto del suo meglio e secondo quanto le circostanze gli davano possibilità di fare con gli aiuti che gli vengono forniti da Dio e in grado di salvare la propria anima. Sant'Ommaso d'Aquino fa presente che tante volte Dio interviene anche miracolosamente con delle particolari grazie, come per esempio nei racconti dei padri gesuiti missionari si racconta di un tal padre che si recò in un'area sperduta della terra dove trovò un signore anziano che non aveva mai conosciuto Gesù Cristo la Chiesa ma che però riusciva a vivere una vita onesta una vita retta una vita all'insegna del rispetto della legge naturale una vita in cui si riconosce Dio si capisce che in un qualche modo bisogna prestare culto al Dio che si riconosce e si capisce che bisogna rispettare le leggi che questo Dio ha insito ha scritto ma dove? nella nostra coscienza quindi questo Gesuita racconta del fatto che il signore anziano volle farsi battezzare dopo poco morì quindi noi abbiamo la possibilità a questo punto nell'esempio di prima il battesimo di desiderio quindi la persona desidera la salvezza desidera entrare in contatto con la Chiesa no? in quest'altro caso invece abbiamo una particolare grazia che ha portato poi alla somministra del vero e proprio battesimo quindi San Tommaso d'Aquino anche su questo è molto chiaro l'opuscolo racconta tanti episodi come per esempio la vicenda dell'imperatore Valentiniano Valentiniano era un catecumeno era un allievo un discepolo di Sant'Ambrogio vescovo di Milano recatosi nelle gallie dietro inganno viene ucciso durante il sonno il popolo aveva ricondotto l'assassinio a un generale che lo aveva particolarmente in odio beh si pone il problema di dove fosse l'anima di questo buon imperatore morto prima di aver ricevuto il battesimo Sant'Ambrogio dopo due mesi di silenzio se non ricordo male scrisse scrisse un encomio una preghiera parlando anche con le sorelle dell'imperatore deceduto e rassicurandole che il loro il loro fratello fosse fosse fra le grazie di Dio comunque fosse salvo fosse salvo perché lui aveva desiderato di entrare a far parte della chiesa di entrare a far parte della chiesa pur essendo morto prima di aver ricevuto il battesimo e ce ne sono tanti di esempi quindi vorrei essere vorrei riassumere vorrei riassumere un attimo anche perché altrimenti mi perdo nei meandri delle discussioni distinguiamo il corpo mistico dal collettivo umano e sociale si entra a far parte del collettivo umano e sociale nel momento in cui si viene battezzati nella chiesa cattolica si fa parte del corpo mistico se si professa la dottrina di Cristo e si è battezzati nel momento in cui però si riceve il battesimo presso gli eretici si può ottenere salvezza non per la via delle sette eretiche come vorrebbe l'ecumenismo che altrimenti invece è una via di dannazione di certa dannazione neanche in dubbio è sicura la dannazione ma ci si può salvare se con un atto di contrizione si riconquista la grazia perduta si può desiderare di entrare a far parte della chiesa realmente si muore prima di entrare a far parte della chiesa ma la la magia perdonami la parola come ce la descrive San Paolo non come magia ma come ciò che accade realmente se si ha il vincolo della carità si è salvi e questo può avvenire in ogni contesto sociale è presso qualsiasi essere umano ma d'altro canto è molto semplice Dio non è ingiusto Calvino uno degli accusatori della cattiveria della chiesa invece sosteneva che esiste la predestinazione alcuni uomini certamente si salveranno per altri uomini è impossibile che si salveranno si dirà ma come è possibile credere a un'igiozia del genere bisogna essere masochisti per far parte di una setta del genere come quella dei calvinisti no Calvino diceva perché la condanna di questi uomini ci dimostra la grandezza di Dio del giudizio di Dio Lutero per esempio Lutero diceva noi non possiamo essere in grado di fare sempre del bene l'uomo per forza deve peccare perché Dio non gli dà gli strumenti necessari per non peccare quindi si salva solo la persona che ha fede l'importante è avere fede che esiste Dio più o meno da questa da questa teoria poi il Vaticano secondo tira fuori quella che è l'attuale dottrina della giustificazione fortemente voluta anche da Ratzinger e poi da Bergoglio che forse non capisce non sa neanche dottrina della giustificazione però diciamo arriva a delle conclusioni ancora più grossolane che riguardano questo argomento come per esempio l'esempio degli ortodossi i sedicenti tali giustamente l'autore dice sì in questo caso questi signori sono scismatici perché sono separati dalla legittima autorità tante volte professano anche resie perché i sedicenti ortodossi non sono ortodossi ma professano tutta una serie di resie tuttavia possono aver conservato il sacerdozio anzi è molto più possibile che adesso il sacerdozio venga conservato sacramentalmente presso determinati sedicenti ortodossi che non presso i presuli del Vaticano secondo quindi dice i loro sacramenti sono validi in punto di morte e il soggetto può ricevere l'assoluzione sebbene da uno scismatico ma comunque il sacramento è valido e così via fa tutta una serie di esempi adesso ho la mente molto confusa anche perché è lungo e ho finito poco fa di correggerlo però spero di aver accennato qualcosina ma d'altro canto gli articoli poi vengono pubblicati gratuitamente sul sito ecco allora Carlo appunto questo volevo chiederti questi opuscoli o bollettini chiamiamoli come vogliamo dov'è che si possono trovare come si fa ad averli allora gli originali è difficilissimo perché si trovavano solo su su ebay talvolta in qualche biblioteca così ormai poi con gli anni 60 si è ben pensato di no no io parlo di parlo delle tue diciamo delle riscritture beh sul sito di Sursum Corda io oltre a fare il bollettino cartaceo che viene spedito agli associati che versano una quota ma non per essere per essere avaro ma semplicemente perché ci sono delle spese di stampa delle spese di spedizione e tante altre cose ma poi comunque sia vengono pubblicati gratuitamente sul sito di Sursum Corda www.sursumcorda.com chiunque vuole può andare sul sito può leggerlo adesso questo lo pubblicherò più tardi intorno alle 19 appena finiamo quindi si trova sia questo si trovano anche i numeri precedenti sì 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 sempre c'è tutto nella sezione comunicati e note ci sono tutti questi comunicati sì sì beh adesso vedo se riesce invece per chi desidera il cartaceo che cosa deve fare? no no si può semplicemente sottoscrivere iscrivere all'associazione e tra le altre cose un piccolo benefit come contropartita per il contributo dato viene inviato a casa prima lo facevo tutte le settimane perché avevo la possibilità di andare tutte le settimane in tipografia poi alle poste per spedire adesso non mi è più possibile quindi o ne spedisco due per volta insieme oppure ne spedisco tre per volta dipende quindi arriva direttamente a casa anche perché andare in posta presenta qualche piccola difficoltà adesso purtroppo viviamo come reietti e guai guai a dire che anche sotto il nazismo si iniziò così guai sei un eretico se tu dici questo non hai contatto con la realtà manchi di rispetto alle vittime dei campi di lavoro nazisti sei una persona cattiva sei antisemita se dici questo sei antisemita questa è la loro tecnica la tecnica del mainstream è quella di di distruggere tentare di distruggere la persona per le sue idee ora la realtà è ben diversa c'è una discriminazione spaventosa attualmente in Italia non si era mai vista una cosa del genere che poggia su dei criteri non scientifici e abbiamo le lettere che sono venute fuori le email dei membri del cts ne vengono fuori sempre di più di dati e documenti dichiarano aperti sverbis che non c'è nulla di scientifico e che queste misure rasentano la pazzia e in più per di più una mentalità secondo il mio punto di vista mafiosa ovvero o fai questo o io ti privo dei mezzi di sussistenza perché qui stiamo parlando del lavoro poi purtroppo siamo venuti a sapere dalle cronache contemporanee che in numerosi ospedali e strutture sanitarie sono stati addirittura vietate le cure a delle persone che non hanno voluto farsi inoculare questo siero sperimentale beh sicuramente è inquietante quello che sta succedendo per ciò che riguarda la mia persona mi viene difficile andare in posta recarmi in ufficio sebbene ormai con gli strumenti moderni e quando ti sei ben organizzato puoi lavorare comunque da remoto e tutto il resto non posso andrà ma è comunque una forma di ripiego perché io non sono libero di muovermi di agire come come richiederebbe la situazione di fare quindi è un ripiego assolutamente è un arrangiarsi è qualcosa di spaventoso quindi ci sono delle limitazioni da tutti i punti di vista grazie che hai aperto l'argomento io vorrei spendere due parole se fosse possibile è qualcosa di scandaloso è qualcosa di scandaloso intanto perché ci rendiamo conto che non vi sono aderenze fra la realtà ciò che ci raccontano e le misure prese in secondo luogo perché chiunque ha delle conoscenze in settori particolari della società e le testimonianze dirette raccontano di tutta un'altra realtà rispetto a quella che viene propagandata certo viene con la forza imposta l'assoggettamento a questa pratica che loro definiscono vaccinale e poi in tv sui media mainstream invece viene proclamata la gioia di essersi fatti vaccinare di aver raggiunto grandi risultati nella realtà numerosissime persone hanno ceduto in quanto ricattate ora io non voglio fare degli esempi o trarre delle conclusioni aneddotiche quindi tizio mi ha detto questo è vero per tutti no non funziona così ma in realtà la falsificazione dei dati gli scandali le continue fughe di informazioni l'evidenza dei fatti tutti quanti noi abbiamo dei sensi per poter valutare ci portano alla amara considerazione che siamo stati privati delle nostre libertà più naturali e per un lungo periodo hanno tentato di privarci anche la cosa più grave della libertà di curto della libertà di professare la vera religione cose che accadono solo nei paesi islamici sunniti ma su questa su questa strada andranno ancora più avanti non si fermeranno questa è una previsione molto facile sì non anche io anche io purtroppo sebbene spesso tu mi conosci io sono un ottimista tuttavia no in questo caso sono perfettamente d'accordo con te perché si direbbe che sono veramente delle facce di bronzo ma delle facce di bronzo loro io non so come facciano a vivere in questa maniera da una parte abbiamo un parlamento che dichiara di essere stato esautorato quando non ma si è fatto esautorare molto volentieri ecco quando non vuole assumersi le proprie responsabilità quando anche alzare la manina potrebbe portare delle ripercussioni di vario tipo ecco diciamo così rimaniamo nel vago e non è solo il problema economico della cadrega della portrona lì i problemi sono tanti bisogna essere uomini bisogna essere veri uomini per fare bene bisogna essere vere donne purtroppo io sono davvero rammaricato ecco non me ne vogliono a male i protagonisti ma tutto ciò che sta accadendo ha del surreale ha del pericoloso ha del pericoloso molto molto pericoloso e i prodromi sono i prodromi a un qualcosa di molto peggiore di molto peggiore tuttavia siamo siamo non siamo nati oggi nella vita chi più chi meno ha avuto tanti altri problemi grazie a Dio siamo stati in grado di superarli questo in questo caso è un po' più difficile perché ti impediscono con la forza di superare questo problema quindi ecco il metodo mafioso ricattatorio è normale e quindi è giusto essere più preoccupati essere più prudenti però non facciamoci abbindolare dai dai corifei vari non andiamo a testa bassa come i pugili in azioni controproducenti poi per il nostro futuro e per il futuro della nostra famiglia dobbiamo essere appunto usare il senno usare il senno e cercare di fare ciò che è giusto fare sì sono sono d'accordo sono d'accordo ripeto non è non è un momento non è un momento facile ancora di più deve essere la fede a guidarci ancora di più non bisogna abbattersi assolutamente tanto le cose ormai sono sotto gli occhi cioè la realtà si può essere in grado di leggerla tranquillamente basta che non si ascolta la loro narrazione e tuttora se ci atteniamo alla realtà a guardare i fatti arriviamo a facili conclusioni che è un'operazione studiata a tavolino è in atto una grandissima finzione con delle complicità a tutti i livelli altrimenti questo non sarebbe possibile e noi siamo gli schiacciati ma mi pare questa è una buona notizia nonostante tutta questa quest'operazione mediatica e non solo mediatica la quantità di persone che ha capito che cosa c'è veramente in ballo credo che sia in aumento e lo sarà sempre di più questa è una buona notizia e come dire le cose vi verranno svelate man mano che andiamo avanti man mano che andiamo avanti la realtà vera apparirà sempre più evidente che solo i ciechi non la vorranno vedere perché proprio sarà così evidente ciclopica che bisogna avere fette di salame sugli occhi per non vederla e la non volontà di vederla quindi sarà evidentissima già lo è ma lo sarà ancora di più un'ignoranza colpevole esatto un'ignoranza colpevole esatto un'ignoranza colpevole va bene Carlo se vuoi aggiungere altro io intanto invito veramente ad andare sul sito ma anche sulla pagina facebook di Sursun Corda di scaricarsi questo 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 puscolo o questo bollettino chiamiamolo come vogliamo ci sono anche i numeri precedenti Carlo pubblica delle cose di qualità ho visto che anche Don Carandino insomma suggerisce le tue le letture le letture delle tue pubblicazioni che per me sarebbe un onore veramente c'è un personaggio come Don Hugo Carandino così attento così severo nelle sue cose insomma è veramente un è veramente come dire un riconoscimento del lavoro importante e meticoloso e curato che tu fai perché poi curi un po' tutto quindi è un complimento che ti sto facendo ovviamente grazie invito veramente ad andare sul sito sulla pagina facebook di Carlo e scaricare questi materiali che sono preziosissimi in tanti casi tantissimi veramente preziosissimi trovate della roba originale che non trovate in giro da nessuna parte perché Carlo poi ama anche queste chicche chiamiamole così no? grazie davvero molto grato anche a Don Hugo ultimamente ho pubblicato ho scansionato con questo che è uno scanner per libri si mettono i libri qui della CZUR si girano le pagine con semplicità c'è un pedale sotto la scrivania tipo le vecchie macchine da cucire e lui scansiona e ho scansionato due libri che mi sono stati inviati da una cara amica Giovanna del predicatore benedettino Dom Columba Marmion sulla vita di Gesù Cristo e sulle massime del Vangelo riguardanti la vita di Gesù due bei libri li ho pubblicati li ho scansionati e caricati sul libro di Sursum Cord anche quelli si possono scaricare ma ci sono veramente centinaia 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 di libri ed opuscoletti e un'altra cosa prima di chiudere mi veniva in mente che è assurdo è assurdo e non è assurdo perché se noi pensiamo che nella storia le persone si sono fatte ingannare da Voltaire si sono fatte ingannare da Cartesio si sono fatte ingannare da Lutero si sono fatte ingannare da Nietzsche si sono fatte ingannare da Rousseau da Hegel da Hegel come per esempio Ratzinger un nome a caso come ci si può far ingannare da questa banda di dilettanti è perché una cosa è essere ingannati da Voltaire in altre epoche con tutta una struttura finalizzata a ciò e poi insomma avevamo davanti delle personalità di ben indifferente spessore quanto meno culturale ovviamente è improntato al male però c'era come ci si può invece far ingannare da io per esempio rimango scioccato perché ancora oggi a telegiornale che ormai sono delle miniere di fake news qualcosa di scandaloso di spaventoso e ti ribolle il sangue quando è propaganda è pura propaganda è una cosa mostruosa una cosa mostruosa come ci si può credere c'era la conduttrice la signorina che legge il telegiornale peraltro collega giornalista non me ne voglia male ma è la verità dicono sciocchezze che continuava a dire che i morti di covid la diffusione del virus dipende dalle persone che non si sono volute fare immunizzare immunizzare ma che significa cambiano anche il significato dei termini cioè immunizzare è tutta un'altra cosa questi cosiddetti vaccini non immunizzano è evidente la prova dei fatti voglio dire poi poi sviscerano dei numeri che sono sempre campati in aria e ovviamente poi ci sono i giornalisti quelli che vanno a fondo come per esempio Borgonovo della verità che su queste cose sta facendo un grande lavoro e lui ti fa capire dove stanno dove stanno imbrogliando ma lo fanno di proposito o forse sono solo distratti no 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 non sono distratti vai tranquillo come per esempio anche per la questione dell'Ucraina guarda che la questione dell'Ucraina è mostruosa cioè io ricordo ricordi no quando ci fu la questione dei missili che la Russia chi c'era? Khrushchev ma voleva mandare a Cuba se non sbaglio per la controparte c'era Kennedy Kennedy sì aiutami tu sei più grande di me o bene allora e in quel caso sì era una reazione agli armamenti messi in Turchia allora tu mi metti gli armamenti in Turchia benissimo io ti mando i missili a Cuba sebbene il mainstream dimentica di dire questo preambolo ma comunque sia la reazione diciamo anche quella sotto tanti aspetti era una falsa contrapposizione però lasciamo stare non apriamo anche questi scenari però diciamo guardiamo a quello che è successo la controparte americana dice togli i missili da Cuba non me li far arrivare altrimenti è guerra perché tu perché mi stai mettendo delle armi d'offesa a 200 km dalle mie città è la stessa cosa che sta accadendo in Ucraina in Ucraina adesso si sono svegliati ma la guerra nel Donbass c'è da tanti anni Donetsk Lugask non siamo mica nati oggi abbiamo contatti persone che vivono lì persone con le quali ci si può scambiare messaggi mediante tutte le nuove applicazioni ogni giorno che ti raccontano ti mandano le fotografie ti fanno vedere quello che sta succedendo e quindi è il blocco del Nord Stream 2 il gas d'otto poi dopo si svegliano la mattina o però è raddoppiata la bolletta elettrica dobbiamo correre ai ripari ma come? tu prima mi tagli mi blocchi i rifornimenti di tutto ciò che è il gas naturale per l'Europa dopodiché ti lamenti che ti aumentano le bollette ma l'hai creata tu questa crisi e poi Biden che adesso viene definito viene dipinto dai telegiornali come l'uomo che sta impaurendo Putin perché Putin vuole invadere l'Ucraina e quindi Biden va lì a difenderlo ma la questione è diversa ma la Russia ma questi signori l'hanno mai vista una cartina? hanno mai visto quanto è esteso il territorio della federazione russa? sono a conoscenza di tutti quelli che sono di tutte quelle che sono le risorse minerarie della Russia ma chi è il cretino che con tutto ciò che ha va a invadere l'Ucraina? ma di che cosa stiamo parlando? la NATO che vuol piazzare i missili lì ma giustamente Lavrov da parte russa gli dice scusami non mettere i missili offensivi non ti fidi di noi? metti dei sistemi di difesa dei sistemi di difesa ma non mettermi dei sistemi di offesa allora giustamente dice o me lo metti per iscritto che non portate gli armamenti o altrimenti noi non togliamo l'esercito da lì e poi in televisione vanno a descrivere addirittura vabbè lasciamo perdere per gli italiani che delle figure dei meme dei veri e propri meme caricaturali come Biden colui il quale sta intimorendo la Russia ma per favore si è fatto cacciare a pedate nel sedere dall'Afghanistan ma poi un'altra cosa scusami se ti mi dilungo due minuti il TG di oggi è stato mostruoso perché hanno buttato a raffica 7-8 fake news ed erano tutte le notizie del telegiornale cioè le uniche notizie che non erano fake news era l'articolo riguardante il cantante che aveva pubblicato la nuova canzone l'articolo riguardante lo sportivo che ha perso la medaglia in Cina alle olimpiadi tutto il resto erano tutte fake news anche il discorso dell'Afghanistan e dell'oppio ma come? ma come? sono i talebani che vogliono l'oppio ma di che stiamo parlando? ma lo sanno tutti i talebani furono cacciati da lì si fece la guerra in Afghanistan proprio perché i talebani avevano fermato la produzione di oppio perché l'oppio serviva intanto per fare miliardi di medicinali e quindi avevano le mani le case farmaceutiche e poi perché la CIA almeno stando a tutti i documenti che ho potuto studiare che sono reperibili tranquillamente su internet anche da fonti ufficiali utilizzava l'oppio per finanziare le proprie attività le proprie rivoluzioni cose proprio mossuose adesso al telegiornale sento dire che i talebani vogliono loro hanno preso l'Afghanistan per interessi a spacciare l'oppio cose spaventose io mi complemento con te che ancora riesci a vedere i telegiornali io ho deciso di rinunciare dici anni fa perché sai cosa succedeva che mentre andava in onda nel telegiornale io ne facevo un altro dall'altra parte quindi in realtà contestando e confutando tutto ma allora i media non hanno la funzione di informare hanno la funzione di controllare le menti e come dicevo prima c'è una realtà e c'è la finzione i telegiornali sono finzione al cento per cento è chiaro quindi quando abbiamo capito questo io non ci sto non ci perdo neanche neanche dieci secondi dietro perché so perfettamente che il loro obiettivo è quello di inculcarmi nella testa determinate determinate realtà che non esistono o se esistono magari sono l'esatto contrario quindi io ci ho rinunciato ma come dicevo prima siamo di fronte a due mondi il mondo delle finzioni e il mondo reale noi dobbiamo stare quanto più vicini e attaccati alla realtà ed evitare di farci risucchiare in questo mondo di finzioni dal quale poi è difficile uscire perché si perde il buonsenso si perde la razionalità ecco quindi questo è un po' il pensiamo invece alle cose nostre sono molto contento di questi di questi numeri che tu pubblichi invito veramente ad andare sul sito perché sono delle buone letture consigliatissime oltretutto tante veramente inedite che non trovate da nessuna parte quindi ringrazio personalmente Carlo di tutto quello che fa anche sacrificando tempo per altre cose come ha sempre fatto naturalmente perché ci sarebbe bisogno come giustamente lui diceva di aiuti però è sempre difficile trovarne quindi uno fa quello che può con le sue forze e con i suoi mezzi quelli che ha a disposizione va bene Carlo se vuoi aggiungere altro se no direi di salutarci perché rischiamo di mi scuso solo se i nostri appuntamenti a cadenza fissa non sono mai a cadenza fissa ritardiamo di un mese due mesi ogni po' d'altra parte noi non facciamo non facciamo questo di mestiere quindi lo facciamo da persone di buona volontà perché ci rendiamo conto che c'è bisogno di comunicare perché altri di questi tempi stanno comunicando tantissimo comunicano continuamente sono organizzati hanno i mezzi e noi invece purtroppo non siamo messi così ma cerchiamo di fare quel po' che riusciamo a fare con buona intenzione e buona volontà per il resto si vedrà quindi grazie ancora a Carlo e grazie a chi ha visto questo video e alla prossima volta che certamente ci sarà ma non diamo tempi scadenze perché poi rischiamo di non di non mantenere quello che diciamo e non vorrei nemmeno correre questo rischio quindi grazie ancora Carlo si addio piacendo grazie a te e niente auguro una buona serata a tutti gli amici e gli ascoltatori e Dio ci benedica grazie a tutti 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 grazie a tutti